Buonasera! Allora, innanzitutto un pensiero a Ilario Castanier che ho avuto modo di conoscere quando ha collaborato con noi a Maidset, i primi anni di Premium, se lo vado errato, faceva la seconda voce nelle telecronache e devo dire che avevo conosciuto una persona di un'umiltà pazzesca, di una cultura calcistica incredibile, come sapeva spiegare bene le cose con semplicità, è una persona estremamente educata a modo e quindi naturalmente va sicuramente a lui un pensiero, un abbraccio alla sua famiglia, le condoglianze alla sua famiglia. Veniamo alle cose nostre, alle cose che riguardano espressamente questo canale. Ho seguito, sia pure da fuori, non ero presente, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e mi ha colpito quella frase in cui dice non abbiamo avuto la forza di andare a segnare il secondo gol. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente la sua idea era quella di chiudere la partita, ma la squadra non avrebbe avuto la forza. È che detta così ripropone l'antico tema o ricorrente tema di quando si parla di sconfitto, di pareggio eccetera, dovevamo fare ma non l'abbiamo fatto e quindi io volevo che succedesse una cosa ma la squadra ne ha fatta un'altra. Quindi praticamente è come dire la responsabilità non è mia ma la responsabilità della squadra perché io volevo che la squadra andasse a chiudere la partita. Dette così sono cose che si prestano sicuramente a questa interpretazione, prestano in fianco a questa interpretazione. Di rimando io non credo, ma veramente faccio fatica a pensare che un allenatore possa dire quando una squadra passa in vantaggio, bene adesso accontentiamoci e portiamo a casa questo risultato. Lo puoi dire se fai gol a dieci minuti dalla fine e allora lì è chiaro che se ti scopri ancora rischi e se prendi gol è poi difficile cercare di rimediare. Ma tutto questo cosa porta a dire? Che evidentemente in quel momento Allegri non è stato in grado di farsi sentire, questa può essere un'interpretazione. L'altra interpretazione è che allora c'è un difetto strutturale, può essere che ci sia un difetto strutturale all'interno della squadra, strutturale dal punto di vista mentale all'interno della squadra. Perché se un allenatore ti dice vorrei fare il secondo gol per chiudere la partita ma la squadra non ci riesce e ha bisogno di prendere uno schiaffone per reagire e allora c'è un aspetto importante sul quale lavorare ma se ce lo diciamo ancora a metà febbraio significa che a o non ci sia lavorato perché lo si diceva anche qualche mese fa, prima che tutto il casino succedesse, o b si lavora ma il lavoro non viene recepito, c il lavoro viene eseguito male o viene esplicato male. Non lo so, cioè ci sono tante possibilità di fronte a questa situazione qua. Io faccio fatica onestamente a farvene un'idea un'idea precisa. Può anche essere che tutto dipenda anche dalla mancanza di giocatori di particolare carisma che siano in grado di trascinare una squadra a provare a fare un secondo gol e non a inculare, che non è una parolaccia, da tornare indietro una volta che ci si sente quasi appagati dall'essere passati in vantaggio. Lasciatemelo dire, manca effettivamente in questa squadra un vialli della situazione. Vialli era quello che raggiunto il pareggio quel giorno contro la Fiorentina e la squadra perdeva 2 a 0 e è andato a prendere il pallone del 2 a 2 dalla porta, ha scansato, perché aveva segnato lui, ha scansato, era solo secondo gol. Chi voleva esultare è corso a mettere la palla al centrocampo perché voleva vincere questa partita. In questo momento storico di Juve non vedo all'interno di questa squadra uno dalla personalità così forte, o meglio ci potrebbe essere che è Danilo ma fa il difensore, è un'altra cosa. Cioè la Juve ha bisogno di uno probabilmente che in momenti in cui può esserci una debacle mentale sappia spronare la squadra dando un esempio concreto ed è una funzione che svolgono secondo me maggiormente o dovrebbero svolgere maggiormente centrocampisti e attaccanti. Cioè un leader carismatico. Qua non c'è un leader carismatico in assoluto. Qua ci sono giocatori di buona personalità, c'è sicuramente un giocatore che diventerà simbolo in questi anni della Juvedus che è Danilo, ma c'è bisogno di un vialli. Ma un vialli non è detta che nasca frequentemente. Io la vedo un po' così o quantomeno è un modo di dire che ci siano più responsabilità di fronte alle situazioni di questo genere. Senza voler, ripeto, salvare nessuno. Perché? Perché tutto questo mi porta poi a dire che è clamoroso, inammissibile che la Juve non batta agevolmente il Nantes. L'altra cosa che contesto nelle parole di Allegri è presentare adesso questa partita con lo Spezia come se la Juve dovesse andare a giocare in casa del Barcellona. Cioè è un campo difficile, hanno fatto bene, lo stadio, l'ambiente è qua e là. Con tutto il rispetto è lo Spezia. E allora mi dico, mi vengono in mente le parole della sua vigilia con la Sampdoria. È un campo difficile, il pubblico si è attaccato, spinge la squadra, non è facile. Cioè, e la Juve ha fatto 0-0 col gol annullato a Rabiot. Per carità c'era un fuorigioco, quindi ok. E ha offerto una prestazione brutta quel giorno, quando sembrava una partita che si potesse vincere in carrozza. Ora, io non dico che un allenatore deve essere sfrontato e presuntuoso e dire no, domani vinciamo facile, figuriamoci. No, questo assolutamente no. Sarebbe una mancanza di rispetto, sarebbe un rischio notevolissimo perché se poi non vinci ti si ritorce contro. Però presentare le partite o si vuole tenere sulla corda una squadra e diciamo così, evitare che ci sia un calo di concentrazione perché magari l'avversario non è così stimolante e quindi fare in modo che ci sia la tensione giusta anche in partite che sulla carta appare non facili. Oppure c'è proprio questo, questo fatto di, cioè il rischio qual è ragazzi? Parliamoci caro, quello di creare una specie di alibi poi nella squadra, no? Si crea una specie di alibi? Eh beh, insomma, l'ha detto che non era facile giocare lì. Eh, ci abbiamo provato, non abbiamo vinto, però lo sapevamo che non era facile giocare lì. Non lo so, scusate, io questa sera mi sono espresso un po' a rota libera, sono andato un po' a rota libera e devo dire che non è facile, non è facile gestire questo tipo di situazione, non è facile. Forse mi spiego così, ecco, determinati risultati, determinati approccia le partite e situazioni nelle quali tu pensi che la squadra possa agevolmente superare una sfida e invece fa molta più fatica di quello che le sarebbe richiesto. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, io questa sera sono andato un po' a rota libera. Giocheranno Rugani, Sicuro, Perin e Ken perché Chiesa non è stato convocato in quanto ha un affaticamento, ha giocato due partite, troppe partite ravvicinate, ci poteva anche stare. Però faccio fatica a pensare a una Juve che fa fatica a battere lo Spezia domani, poi magari non lo batte e perde addirittura, ma faccio fatica. Fatemi sapere. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani nell'intervallo, non sarò presente, la commenterò qua da casa, nell'intervallo su Facebook e poi a fine gara con la reazione a caldo su questo canale. Ciao!